a un tempo in cui nelle relazioni internazionali la forza prevaleva sul diritto e le guerre di conquista incombevano sui destini dei popoli le immagini che ci giungono dai centri come busha orotianca cramastorps mariupol kharkiv mostrano orrori atrocità che pensavamo non potessero più ripetersi in europa la guerra ha provocato una catastrofe umanitaria e indicibili sofferenze per la popolazione civile a ieri l'ufficio dell'alto commissario delle nazioni unite per i diritti umani aveva confermato il decesso di 3.153 civili tra cui ragazzi e bambini e il ferimento di altri 3.316 i numeri reali per stessa missione delle nazioni unite potrebbero purtroppo essere considerabilmente più elevati in continuo aumento come guardato pure dall'ufficio della procuratrice generale a chi è la ferita inferta e mentale norme del diritto internazionale anche di carattere cogente da parte della federazione russa attraverso l'aggressione all'ucraina e le continue notizie di volatilazione internazionale umanitario commesse nel corso delle operazioni militari indignazione turbano le coscienze a livello globale ne è scatturita e veniamo al punto una forte domanda di giustizia alla quale la comunità internazionale ha risposto con prontezza anche con il contributo italiano accertare i crimini internazionali commessi in ucraina e assicurare i colpevoli alla giustizia costituisce un impegno di civiltà che dobbiamo al popolo ucraino alle vittime inermi di questa guerra di aggressione ma è anche uno strumento di deterrenza e di prevenzione combattere l'impunità significa infatti anche impegnarsi affinché cessino in futuro non si ripetano le atrocità i crimini che stanno drammaticamente segnando le cronache di queste settimane è questo uno degli obiettivi posti a fondamento della corte penale internazionale richiamato nel preambolo allo statuto che fu adottato a roma nel 1998 questo obiettivo può apparire velleitario illusorio alla luce di quanto sta accadendo attualmente interna ucraina ma i principi e i valori che lo hanno ispirato sono più che mai necessario e di questo rimango con fin dall'inizio dell'invasione russa contro l'ucraina sono stati attivati alcuni meccanismi internazionali a cominciare dalla corte penale internazionale volti a indagare ogni eventuale crimine internazionale commesso in territorio ucraino benché né la russia né l'ucraina siano parte dello statuto di roma che ha istituito la corte quest'ultima è competente a indagare e giudicare i crimini commessi in ucraina in virtù di due dichiarazioni risalenti all'aprile del 2014 e al settembre del 2015 attraverso le quali kiev ha accettato volontariamente la giurisdizione della corte penale internazionale e su queste basi che il 28 febbraio il procuratore karim khan annunciato l'intenzione di chiedere alla corte l'autorizzazione ad aprire un'indagine sulla situazione in ucraina la richiesta di autorizzazione costituisce un passaggio procedurale necessario previsto dallo statuto per tutte le indagini avviate motu proprio dal procuratore anche se suscettibile di migratare i tempi a fronte dell'urgenza di avviare la raccolta di prove in teatro di guerra e quindi anche per ovviare a questo passaggio che il 2 marzo un gruppo di 39 stati parte dello statuto di roma italia in primis ha deciso di deferire all'ufficio del procuratore della corte penale internazionale la situazione in ucraina ai sensi degli articoli 13 paragrafo e 14 14.1 dello statuto chiedendo al procuratore di indagare ogni condotta qualificabile come crimine di guerra crimine contro l'umanità e genocidio occorsa nel territorio dell'ucraina dal 21 novembre 2013 questo deferimento che come ho detto poggia sulla dichiarazione volontaria di accettazione della giudiziazione della corte da parte di chiede ha così consentito di accelerare il procedimento venendo meno per aprire un'indagine ufficiale la necessità di una richiesta di autorizzazione alla camera preliminare da parte del procuratore quest'ultimo quindi immediatamente annunciato lo stesso 2 marzo l'avvio di indagini ufficiali è importante precisare che la corte potrà indagare ogni condotta qualificabile come crimine di guerra crimine contro l'umanità e genocidio occorsa nel territorio ucraino tuttavia la sua giurisdizione nonostante preferimento collettivo non può essere stesa all'accertamento delle responsabilità per il crimine di aggressione già che la federazione russa non ha rettificato lo statuto di roma né i relativi emendamenti di campala che definiscono tale crimine le condizioni per l'esercizio della giudiziazione oltre all'importante effetto concreto di accelerare il procedimento non può sfuggire la valenza simbolica e politica della decisione di procedere a un deferimento collettivo sulla situazione in ucraina una decisione senza precedenti per numero di stati aderenti che nelle settimane successive sono andati aumentando passando di 39 a 43 ciò dimostra da un lato la profonda esigenza di giustizia avvertita la comunità internazionale di fronte all'uso spregiudicato dalla forza a cui stiamo assistendo in ucraina e dall'altro la fiducia riposta nella corte penale internazionale la pronta e convinta adesione al governo italiano questa iniziativa è coerente con il tradizionale pieno sostegno fornito dal nostro paese alla corte stessa allo statuto di roma che costituiscono strumenti indispensabili per promuovere lo stato di diritto la tutela dei diritti umani e la giustizia penale internazionale e per combattere l'impunità di fronte a gravi crimini internazionali a seguito del deferimento il governo italiano ha manifestato in più occasioni il proprio sostegno politico al mandato della corte ai fini dell'accertamento dei crimini internazionali commessi in ucraina tale sostegno è stato ribadito anche nelle dichiarazioni effettuati in ambito g7 a livello di leader e di ministri degli esteri ed è stato manifestato direttamente agli organi della corte in occasione della visita effettuata dalla ministra della giustizia cartabia alla aia il 24 marzo l'ufficio del procuratore è ora impegnato nella fase di raccolta e analisi delle prove che costituisce la pietra angolare su cui costruire il procedimento e accertare le responsabilità il procuratore canzi è già recato due volte in ucraina per incontrare ad alto livello 16 marzo e 13 aprile per incontro ad alto livello visitando anche la città di bussia un importante contributo alle indagini potrà essere fornito dall'agenzia dell'unione europea per la cooperazione giudiziaria penale euro gesto a questo proposito lo scorso 25 aprile la commissione europea ha proposto una modifica del regolamento di euro just per rafforzarne gli strumenti di indagine e rendere più efficace la cooperazione con le autorità giudiziarie internazionali cominciare dalla corte penale internazionale a pochi giorni dall'avvio delle indagini sulla situazione in ucraina il 7 marzo il procuratore can ha presentato agli stati parte una richiesta di sostegno sostegno che potrebbe essere di carattere finanziario attraverso contributi volontari da destinare a un fondo fiduciario di nuova istituzione oppure assumere la forma di distacco di personale specializzato a riguardo il procuratore ha individuato alcune figure professionali come investigatori analisti militari esperti forensi specialisti di immagini satellitari che potrebbero accrescere la capacità e l'efficacia dell'azione del suo ufficio chiaramente questa seconda richiesta non è collegata alle soli indagini sulla situazione in ucraina ma risponde alle esigenze di rafforzare in generale la capacità dell'ufficio rispetto a tutte le indagini avviate questa è una precisazione importante perché un eventuale sostegno degli stati parte vincolato a una specifica situazione oggetto di indagini da parte del procuratore potrebbe essere percepito come incoerente rispetto ai fondamentali principi di indipendenza e imparzialità della corte sanciti dallo statuto il sostegno dell'italia la corte si sostanzia già in un significativo apporto finanziario non solo politico essendo il nostro paese il quinto contributore dal suo bilancio per il 2022 il governo ha già versato il proprio contributo obbligatorio pari a più di 9,2 milioni di euro in aumento del 5,4 per cento rispetto allo scorso anno il puntuale versamento dei contributi obbligatori che l'italia assicura non è un aspetto trascurabile anzi è particolarmente utile a garantire il buon funzionamento della corte il cui bilancio dissente del forte cronico ritardo di alcuni stati parte nel versare le proprie porte con conseguente impatto negativo su liquidità e operatività non sfugge peraltro come la possibilità per la corte di fare affidamento su risorse finanziarie costituite in lunghissima parte da contributi obbligatori aumentati del 4,4 per cento nel 2022 rispetto allo scorso anno rappresenti un fattore a garanzia della sua indipendenza imparzialità pur non essendo esclusa dallo statuto la possibilità per la corte di ricevere contributi volontari ancorché restuali in questo contesto l'avvio delle indagini sulla situazione in ucraina determina evidentemente un aumento del carico di lavoro per la corte che potrebbe protrarsi a lungo per le attività di raccolta e conservazione delle prove per l'identificazione del perseguimento dei responsabili e per lo svolgimento del processo e per seguire il perseguimento però svolgimento al processo il bilancio ordinario che include anche lo strumento del fondo per le emergenze costituisce quindi lo strumento più idoneo a garantire un flusso sostenibile adeguato di finanziamenti alla corte preservando al tempo stesso la sua piena indipendenza di questo terremo conto insieme in sede di negoziato interdovermativo in vista dell'adozione del bilancio della corte per il 2023 che sarà approvato dalla prossima assemblea degli stati fatti dello statuto di roma in programma all'aia per dicembre tornando all'oggi la farnesina la farnesina sta ora esaminando la modalità più idonea per rispondere all'inchiesta di sostegno straordinario avanzata al procuratore can valutando la possibilità di erogare un contributo volontario di 500 mila euro per l'anno 2022 la farnesina inoltre avviato un coordinamento interministeriale con il coinvolgimento della giustizia della difesa dell'interno volto a individuare figure specialistiche che possano rispondere ai profili indicati dal procuratore can che nei prossimi mesi potrebbero essere distaccate inoltre il governo intende rispondere positivamente alla richiesta di assistenza tecnica avanzata dalle autorità di chieri inviando in tempo molto breve esperti che possano fornire il proprio qualificato contributo alle indagini coordinate dalla procuratrice generale ucraina per accertare ogni possibile crimine di guerra perpetrato dalle forze di occupazione russa i casi più gravi di violazione del diritto internazionale umanitario potranno poi essere portati all'attenzione della corte penale internazionale le indagini della corte costituiscono un tassello importante del più ampio mosaico di iniziative intraprese per accertare la responsabilità e ripristinare il rispetto del diritto internazionale che dal 24 febbraio è stato deliberatamente ignorato e calpestato rientrano in questo quadro anche le importanti iniziative di natura non giurisdizionale che l'italia sostiene pienamente la commissione d'inchiesta istituita dal consiglio per i diritti umani della nazioni unite la missione di monitoraggio sui diritti umani in ucraina dell'ufficio dell'alto commissario delle nazioni unite per i diritti umani e la missione di esperti dall'oscio quest'ultima già redatto il proprio rapporto che documenta chiari schemi di violazione del diritto internazionale umanitario da parte delle forze russe nella conduzione dell'ostilità un procedimento di carattere giurisdizionale che riveste particolare rilievo è costituito dal ricorso presentato il 26 febbraio dall'ucraina contro la federazione russa dinnanzi alla corte internazionale di giustizia il ricorso verte sull'interpretazione l'applicazione e la esecuzione della convenzione del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella sua richiesta l'ucraina imputa la russia di averla falsamente pretestosamente accusata di aver commesso atti di genocidio nelle autoproclamate repubbliche di lugansk e donetsk circostanza questa alla base della conseguente decisione di attaccare militarmente il paese con l'obiettivo da subito proclamato dai diversi dai vertici istituzionali russe più volte ribadito anche in seguito di prevenire e reprimere questi asseriti atti di genocidio il ricorso introdotto dall'ucraina accompagnato dalla richiesta incidentale di applicazione di misure cautelari conservative su cui la corte si è pronunciata in tempi molto rapidi il 16 marzo infatti è messo un ordinanza con la quale ha accolto gran parte delle richieste ucraine indicando alcune misure cautelari conservative e stabilendo l'immediata sospensione delle operazioni militari da parte della federazione russa ancorché limitata nella fase incidentale l'ordinanza della corte internazionale giustizia un grande rilievo principale organismo organo giurisdizionale delle nazioni unite la corte internazionale giustizia ha una indiscussa autorevolezza e le sue pronunce hanno carattere giuridico vincolante la federazione russa non volendo conformarsi a questa ordinanza sta violando una preciso obbligo internazionale l'italia in stretto coordinamento con i partner ha accolto con favore l'ordinanza della corte il 16 marzo anche attraverso i comunicati adottati in ambito g7 a livello di leader di ministri degli esteri e abbiamo chiesto alla federazione russa di ottemperare immediatamente all'ordinanza sospendendo tutte le operazioni militari iniziate lo scorso 24 febbraio dopo l'ordinanza cautelare il procedimento entra ora nella fase di merito che comporta tempi più lunghi anche alla luce della complessità del caso la corte ha fissato al 23 settembre la scadenza per la presentazione della memoria da parte dell'ucraina mentre la federazione russa che sinora non ha partecipato alle udienze non ha ancora chiarito se si costituirà in giudizio o meno avendo tempo fino al 23 marzo del 2023 per presentare la contro memoria pur avendo evidenti riflessi politici è chiaro che il procedimento a natura giustizionale e pertanto esige il pieno rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità della corte non solo dalle parti in giudizio ma da tutti gli stati membri della nazionale è inoltre prevista anche per stati terzi rispetto alla controversia la possibilità di intervenire nel procedimento secondo le modalità disciplinate dallo statuto trattandosi di una controversia relativa all'interprezione interpretazione di una convenzione quella del genocidio nel 1948 tutti gli stati parte sono intitolati a intervenire nel procedimento accettando in questo caso l'interpretazione che sacco sarà contenuta nella sentenza che naturalmente spiegherà di spiegherà i propri effetti cogenti anche nei loro confronti l'italia al pari degli altri stati della convenzione del 1948 lo stesso lo scorso 30 marzo ha ricevuto l'apposita notifica da parte del cancelliere della città continueremo a sostenere gli sforzi dall'ucraina dinnanzi alla corte internazionale di giustizia che mirano in ultima analisi a stabilire attraverso il giudizio vincolante in un organo giurisdizionale autorevole indipendente mirano a stabilire dicevo che l'intervento militare russo basato su accuse infondate di genocidio non si fonda su alcuna solida motivazione giuridica stiamo quindi valutando in stretto coordinamento con i partner le modalità più opportune per continuare a manifestare il nostro sostegno a chi e non escludendo la possibilità di effettuare un intervento di adesione al procedimento ipotesi su cui stiamo svolgendo un approfondito e attento approfondimento tecnico la corte penale internazionale e la corte internazionale di giustizia rappresentano istituzioni fondamentali per il concetto il corretto funzionamento di quell'ordine internazionale basato sulle regole in cui l'italia crede fermamente che la guerra di aggressione mossa dalla federazione russa nei confronti dell'ucraina minacciato e destabilizzato con conseguenze che potrebbero estendersi ben oltre la natura la durata che tutti vorremmo e vogliamo breve del conflitto il sostegno alle indagini della corte penale internazionale per l'accertamento dei crimini internazionali commessi in ucraina e il procedimento avviato dall'autorità di kiev dinanzi alla corte internazionale di giustizia per dimostrare l'infondatezza delle pretese giuridiche adottate dalla russia rispondono una profonda esigenza morale e anche nostro interesse salvaguardare i pilastri istituzionali e giuridici su cui riteniamo debba fondarsi la civile convivenza tra gli stati sappiamo che i tempi della giustizia raramente coincidono con quelli della cronaca e in questo caso della guerra questo tuttavia non deve farci desistere dal perseguire fino in fondo ogni iniziativa che possa contribuire a ripristinare il rispetto del diritto internazionale a promuovere la giustizia e riaffermare il valore della dignità umana vale per l'ucraina dove le atrocità commesse oggi scuotono le nostre coscienze ma vale anche per l'afghanistan dove l'italia sostiene convintamente il mandato dello special rapporteur per i diritti umani dell'onu richard bennett e per il miammar dove l'oppressione brutale del popolo birmano continua nell'indifferenza generale anche qui come in afghanistan e nelle tante altre crisi trascurate o teatri di guerra finiti con il governo italiano intende continuare a dare il proprio contributo affinché il diritto torni finalmente a prevalere sulla forza in ucraina e per quanto nelle nostre possibilità nelle altre zone del mondo grazie per l'attenzione grazie a lei sottosegretario per la reazione completa ed esaustiva da un lato dovendo commentare questa situazione che è inutile ribadirlo ha lasciato lo scenario internazionale nazionale noi come istituzione sgomenti apprezziamo la tempestività seppur in questi scenari complessi con cui si è attivata la procedura che lei ci ha riferito quindi dal 24 febbraio dopo pochi giorni il 28 è stata fatta subito la richiesta di autorizzazione ad attivare la corte penale internazionale e il 2 marzo insomma gli stati sono stati subito pronti nel dare il nulla osta ora capiamo bene la complessità della materia soprattutto per la mancata sottoscrizione dello statuto di roma da parte della russia quindi il giudice a itala ci diceva che proprio non si può condannare neanche chi è contumace insomma in questo caso l'eventuale responsabile o ritenuto tale di per cui sappiamo bene quanto è complesso però riteniamo doveroso approfondire e accertare le responsabilità soprattutto i fatti gravi che sono stati testimoniati dalla documentazione video e che il giudice ci ha riferito correttamente come avviene anche nei procedimenti giudiziari da noi debbono essere poi comprovati da tutta una serie di indagini complesse per cui ringraziamo lei e apprezziamo il lavoro fatto dall'Italia di aderire sia come naturalmente avviene come quinto contributore ma poi con i contributi straordinari e con i supporti che inevitabilmente dovranno essere dati per le persone che dovranno poi svolgere queste indagini io tolto questa premessa e chiaramente nell'ospicio che venga ripristinata più presto l'ordine internazionale che appunto come ha ricordato lei è basato sul rispetto delle regole insomma quindi e questo penso che debba essere lo sforzo massimo che dobbiamo fare noi come istituzione come parlamento indubbiamente la farnesina ha un grosso carico su questo lavoro e questo merita la nostra gratitudine e il sostegno dell'impegno che dovrà essere ancora dato io lascerei la parola ai colleghi che sicuramente vogliono intervenire partendo dalla senatrice fedeli grazie tanto grazie presidente grazie sottosegretario credo anch'io come diceva il presidente che la sua comunicazione sia per noi particolarmente preziosa e importante lei ci ha fornito non solo il quadro ma anche diciamo la determinazione l'attenzione con la quale il governo italiano in particolare il suo ministero si sono da subito adoperati non solo schierandosi dalla parte diciamo giusta della storia contro chi ha infranto tutte le regole internazionali ma anche se non ho capito male a sostegno anche delle iniziative che in qualche modo vengono affacciandosi anche in questa fase allora le mie domande sono di due tipi la prima è secondo lei varrebbe la pena proprio per a maggiore a sostegno anche di quello che lei ci ha comunicato ci ha informato e ci ha detto io penso che sia importante che questa commissione straordinaria sui diritti umani possa costruire una mozione politica da portare in sede parlamentare esattamente a rafforzamento in generale quindi cogliendo ovviamente le cose che lei ci ha detto le attenzioni che ci ha sottolineato che peraltro anche il giudice a itala ci aveva nella precedente settimana quando l'abbiamo udito ci aveva in qualche modo anche lui detto le stesse cose però in generale sarebbe importante dal nostro punto di vista alla termine di queste audizioni sottolineare il fatto di una richiesta forte esplicita di tutti le forze politiche attraverso questa commissione al governo per sostenere sia in termini finanziari sia in termini di competenze il lavoro della corte penale internazionale ovviamente in senso generale a me pare questo il primo elemento su cui volevo anche una sua diciamo opinione noi ci muoviamo come è normale diciamo in autonomia ma in una fase come questa noi pare importante muoverci anche a sostegno dell'azione importante che il nostro governo sta facendo la se quindi la prima domanda è questa la seconda è se non ritiene perché questa era un'informazione diciamo su cui in qualche modo poco si approfondisce se non ritiene che sia giunto anche il momento nel quale attraverso questa commissione noi possiamo far presente e richiedere che ogni stupro venga considerato un crimine di guerra sia un crimine contro l'umanità chiedo scusa questo significa anche qui agire in termini generali poi evidentemente noi se ci fosse la disponibilità politica della potremmo approfondire quali sono gli strumenti ovviamente se significa una modifica di qualche articolo dello statuto della corte penale internazionale o quale quali strumenti ci dobbiamo dare però questo il secondo elemento terzo elemento abbiamo siamo venuti a conoscenza cosa che glielo dico mi aveva particolarmente stupito nella scorsa settimana nell'audizione precedente siamo venuti a conoscenza che l'italia non ha ancora non si è ancora dotata degli strumenti di attuazione dei regolamenti internazionali esattamente emanati dalla corte penale internazionale e questo a noi sembra un tema altrettanto importante su cui vorremmo porre l'attenzione anche all'interno della nostra mozione sappiamo oltresì che si è costituito lo abbiamo appreso una settimana fa un gruppo di lavoro presso la ministra della giustizia cartabia ecco però a noi sembra importante poter sostenere questo processo e chiedere diciamo in qualche modo anche celermente l'attuazione pur essendo attenti alle complicazioni alle difficoltà perché le cose vanno fatte in modo serio e fatte bene però è chiaro che tutto questo diventerebbe se rapidamente attuato renderebbe il nostro paese più forte anche nella richiesta che noi avanziamo di sostegno al lavoro della corte penale internazionale diventerebbe più forte l'iniziativa che a me pare importante che prendiamo come paese per far diventare lo stupro una violazione dei diritti umani sapendo che su questo andrebbe aperto una riflessione davvero specifica che non è solo lo stupro utilizzato nei conflitti e nelle diciamo nelle situazioni di guerra ma noi sappiamo che peraltro in quelle situazioni sono quelle davvero che poi ti portano più facilmente al genocidio diciamo per la modalità con cui avviene per gli effetti che ha sulle donne per le scelte ovviamente che ne conseguono drammatiche di cosa significano gli stupri in quelle situazioni ecco mi piacerebbe ancora una volta ringraziandola comprendere se è possibile poter fare su questi temi un lavoro sia di consolidamento da una parte delle cose che lei qui ci ha detto ma anche questa parte di innovazione che anche qui varrebbe la pena e lo dico subito non è legata solo ai fatti di buce è fatta in generale perché questo continua ad avvenire in afghanistan come da altre parti ce lo dico proprio in modo chiaro per questo ritengo che questa iniziativa per la nostra storia la nostra cultura diciamo probabilmente magari anche interloquendo se lei lo ritiene con la sede europea non lo so però ecco a me pare un'iniziativa nostra importante grazie allora sottosegretario diciamo che la collega fedeli ha come sempre e questo la ringrazio ha riassunto i principali dubbi che passano per questa commissione e ora se lei vuole avere uno spazio per commentare le sue richieste o per le risposte mi dica oppure io posso se ci sono altri interventi posso aspettare oppure posso dire alla senatrice fedeli che ovviamente il parlamento è sovrano ma il governo quantomeno quello presente qui nome in generale il governo sarebbe credo positivamente aiutato da un atto di giudizio parlamentare e questo potrebbe contribuire da una parte ad accelerare il ad accelerare l'impegno a contributo straordinario alla corte penale che in questa fase e dall'altra parte anche di affrontare gli altri due punti che lei che lei citava naturalmente sulla sul passaggio sul far diventare lo spugno non solo crimine di guerra soprattutto nel conflitto ma un crimine contro l'umanità adesso io non ho le competenze giuridiche sufficienti a capire quale debba essere se sia un passaggio se in questo caso debba addirittura essere necessaria una modifica dello statuto nel qual caso i tempi certamente non sarebbero immediati ma se questa fosse la necessità l'indirizzo del parlamento potrebbe anche far sì che il governo italiano si muova per formulare una proposta e raccogliere il consenso su questa proposta per quanto riguarda per quanto riguarda gli strumenti alcune cose sono state fatte per esempio il protocollo di campala è stato stato ratificato dal parlamento quindi dall'italia e la ministra cartabia ha istituito una commissione ministeriale per la codificazione nell'ordinamento interno dell'ordinamento nazionale dei crimini internazionali e questa commissione dovrebbe d'auspicio che i lavori di questa commissione si concludano entro maggio naturalmente un eventuale atto di indirizzo potrebbe fare riferimento ai lavori di questa commissione e poi auspicare ma questo sarebbe un impegno che il parlamento che il governo porti più rapidamente possibile all'attenzione del parlamento anche questo passaggio che eh convergente alla convergente alla alla predisposizione di tutti gli strumenti anche nell'ambito del del dell'ordinamento italiano e il ministro della parieste della federazione internazionale partecipa a questa commissione giusta dalla ministra cartabia grazie sottosegretario e io nel congedarla e nel ringraziarla nuovamente eh condivido con tutti noi eh la necessità di questo impegno che dobbiamo fare sul lato governativo sul lato parlamentare per aiutare eh le parti in causa e in lotta e anche la nostra nazione a trovare le migliori soluzioni e lo faccio partendo da una considerazione del giudice a itala che mi ha molto colpito la settimana scorsa perché eh per nostra fortuna i ricordi delle della guerra e delle sue conseguenze risalgono a tanti anni fa nella memoria storica della nostra nazione e il numero che ci ha dato il giudice eh è veramente quello che deve muovere penso le nostre riflessioni ossia lui ci ricordava come nei conflitti della prima guerra mondiale il rapporto fra popolazione tra le vittime nella popolazione civile quella nella popolazione militare era di uno a dieci nella seconda guerra mondiale questo rapporto si è spostato ad uno a uno e in questo conflitto il rapporto è a dieci civili contro un militare deceduto quindi questo dà proprio il tema anche di quando ha detto la collega fedeli no di come il concetto di crimini di guerra debba essere o si sta spostando purtroppo pericolosamente verso crimini verso l'umanità ossia popolazione civile inerme che non che non è parte attiva del delle causa di un conflitto ma che si trova inevitabilmente eh coinvolta nella maniera più grave e nelle forme più terribili no quindi quando parliamo di genocidio di stupro di sostituzione etnica di tutte quelle brutte e tristi scenarie insomma che la guerra ci pone eh questo ci dà l'indicazione di come lo sforzo per la pace per far prevalere la diplomazia per trovare tutte le motivazioni più ragionevoli a terminare la guerra e debba essere la nostra azione nel frattempo non dimenticando la la ricerca della verità e dell'indagine quindi quello di cui abbiamo parlato oggi detto questo sottosegretario la saluto nuovamente la ringrazio perché lei è sempre eh disponibile e questo va oltre i ruoli istituzionali quindi a disposizione per eh ogni necessità reciproca grazie grazie se sono io che sono a disposizione al suo presidente e dai colleghi grazie grazie buona giornata grazie a tutti i colleghi grazie grazie a tutti